gnammi gnammi ciao amici quanta fame oggi in un certo senso come tutti i giorni adesso faccio un diretto per vedere se ho mangiato tutto non voglio dimenticare nulla aspettate aspettate forse ho visto qualcosa lì fuori arrivo no è solo Maria che mi sta facendo il video sapete che vi dico adesso faccio una bella nuotata chi lo sa magari girando un po' trovo qualcos'altro da mangiare chi lo sa o magari più tardi Maria mi da qualcos'altro adesso vi saluto mi raccomando mangiate anche voi ciao